Pronto? Eh zia Maria sei tu? Eh no guardi io vado troppo di fretta, sto cucinando, ti metto in viva voce. Sono andata a Euromobili a quarto, ho comprato il letto, i comodini, la cucina nuova, il tavolo, le sedi, il salotto, il tavolino centrale, l'ingresso con un specchio bellissimo. Zia Maria, ma le mura di cinta e Euromobili ce le hai lasciate o ti sei comprato pure quelle? Eh oh, e non le ho viste le cinte? Oh se no me le compravo, che peccato. Io te l'avevo detto che era molto facile e d'altronde perché fare le cose difficili quando sono facili facili?